rimanendo nel campo bancario passiamo a un'altra soluzione ancora in questo caso con una data di valutazione posta nel mese di maggio inizio del mese di maggio mi viene da dire una cosa rispetto a quello che abbiamo visto ad ora ogni mese avete di fatto fatto negli ultimi mesi un'emissione sui titoli bancari sui basket con azioni bancarie e questo al suo perché perché al di là che a voi come emittenti vi ha permesso di strutturare i prodotti con rendimenti più alti piuttosto che barriere più basse piuttosto che permette altresì a chi ha in portafoglio questi prodotti di pur rimanendo all'interno di uno stesso settore diversificare e smussare il rischio perché pensiamo se abbiamo avuto una discesa delle quotazioni anche lo stesso titolo magari tre mesi fa valeva il 20 il 30 per cento in più quindi se riesco a fare adesso lo stesso prodotto ea tenere una barriera sparo del 50 per cento così come era l'emissione precedente il mio rischio si riduce perché già una parte di movimento ribassista vi è stato certo la storia insegna che potrò avere ancora dei movimenti fortemente discendenti ma il calcolo e probabilità mi dice che forse ecco si riduce queste venienze da un punto di vista statistico e quindi vorrei parlare in questo caso di un certificato che ha una valenza anche europea perché va a prendere pimpi paribas intesa san paolo sg e unicredit di fatto le prime due banche francesi e le prime due banche italiane banche che peraltro spesso hanno avuto delle storie in parallelo pensiamo quella che la presenza all'interno del gruppo euro next di di paribas e d'intesa san paolo di tutte le voci che da decenni ormai perché così è vogliono una unicredit possibile sposa di sg sì sì esatto riccardo questo è un basket europeo poi la correlazione tra i titoli del settore bancario europeo rimane comunque una correlazione alta il rialzo dei tassi ovviamente porterà potrebbe portare benefici a livello di bilancio sia alle banche italiane ma allo stesso modo ovviamente alle banche alle banche europee questo prodotto che nomino tu questo basket è ovviamente un basket sempre worst off con quattro titoli la caratteristica di questo certificato è che appunto è dotato di effetto air perché quindi rispetto a quei due che abbiamo visto precedentemente in questo caso lo strike è più basso del prezzo di riferimento iniziale ed è posto al 60 per cento in corrispondenza della barriera quindi si va ad investire sempre sul settore bancario non ci si concentra più soltanto sull'italia ma diciamo si allarga la visione a quello che è un ambito europeo e si ha appunto una protezione data dall'effetto airbag per cui in caso di rottura della barriera si attutiscono le perdite rispetto appunto ad un classico cash collect rimane la struttura nel suo diciamo nella sua visione generale rimane molto simile agli altri due ovvero premi mensili in questo caso dello 0,95 quindi un 11,4 per cento anno soglia bonus al 60 per cento anche qui possibilità di rimborso anticipato da novembre quindi tra due mesi ci sarà la prima rilevazione per il rimborso che scende del 5 per cento a semestre questo è un certificato difensivo per chi ha l'airbag per chi vuole investire magari non soltanto su bancari italiani anche perché come detto bene tu la situazione italiana va comunque inquadrata anche nel contesto delle elezioni che ci saranno a breve quindi magari se qualcuno è un po' più restio ad investire adesso su titoli italiani che potrebbero subire degli shock in seguito alle elezioni si può andare a prendere un basket leggermente da questo punto di vista più diversificato a livello geografico e quindi anche con due bancari europei ecco grazie a tutti grazie a tutti